Musica Caccia ai banditi che hanno rapinato il negozio di alimentari a refrontolo minacciando la titolare 81N con una pistola il suo racconto ai nostri microfoni in un video l'arrivo dei malviventi poco prima del colpo Un'altra notte di violenza in via Piave a Mestre con lo scontro tra due stranieri finito con un accoltellamento, un 28 anni nigeriano in ospedale la rissa filmata dai residenti esasperati che dicono ora basta Paura stamattina nel Vicentino per l'incendio che aveva stato un'azienda tessile di Sossano alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza super lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il rogo Ucciso a 17 anni dalla meningite questa mattina nel cortile del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano la veglia per ricordare Tommaso Fabris a lunedì funerali al Pala 2 Covid alla regione aggiorna il piano di sanità pubblica il contagio cala ma l'attenzione resta alta e sull'inchiesta zona rossa in Lombardia l'epidemiologo guerriero avverte non si perda di vista l'approccio scientifico l'Unione Europea ha rinviato il voto sulla direttiva per lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 la notizia a poche ore dal lancio a Belluno prima in Veneto della raccolta firme in tutte le piazze il 17 e 18 marzo suicidio assistito oltre 2.500 le firme raccolte in Veneto per la proposta di legge regionale il leader dell'associazione Coscioni Marco Cappato a Mestre la Coppa del Rai su media nord-est record di ascolti ieri sera per la fase di andata della gara tra Real Madrid e Barcelona su Tele nord-est con la vittoria dei Blaugrana buonasera ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali questi i titoli ma iniziamo subito con una notizia giunta pochi istanti fa in redazione con le foto dei vigili del fuoco impegnati proprio in questi minuti in via Camatte all'incrocio con via Cannaregio ad Anguillara Veneta per un'auto finita completamente inabissata nel fiume Gorzone i vigili del fuoco appunto sono al lavoro sono arrivati da piove di sacco insieme al nucleo sommozzatori e l'elicottero Drago 151 da Venezia oltre all'autogru dal comando di Rovigo e hanno iniziato le operazioni di recupero della vettura in questo momento non si esclude la presenza di qualche persona all'interno dell'auto finita in acqua naturalmente vi daremo aggiornamenti se arriveranno nel corso di questa edizione veniamo o meglio continuiamo con la cronaca perché caccia ai banditi che ieri sera hanno rapinato un negozio di alimentari siamo nella marca trevigiana a Refrontolo minacciando la titolare di 81 anni con una pistola l'anziana è ancora sotto shock ma oggi è tornata nel suo negozio in un video le immagini dell'arrivo della macchina dei malviventi pochi attimi prima del colpo in questo video gli istanti prima della rapina l'auto 1 a 1 bianca arriva parcheggia sul marciapiede a pochi metri dal market poi i malviventi passamontagna sul volto scendono dalla vettura uno di loro è armato di pistola entrano nel negozio e la puntano contro Ed Adoro 81 anni la titolare è una sua dipendente sono attimi di terrore come erano queste due persone? tutte mascherate, guanti erano tutti coperti col passamontagna avevano solo gli occhi fuori quanta paura ha preso signora? non le dico quanta non ho dormito stanotte naturalmente però bisogna andare avanti questa mattina Ed è tornata a lavoro negli occhi ancora a quelle immagini la pistola e il rapinatore che le prende i soldi dalla cassa non solo e dopo quando avevano preso i soldi mi hanno detto la borsa dei soldi ma io allora ho detto ma che borsa dei soldi? la borsa si sono un po' seccati la borsa dei soldi sono andata dentro ho preso la borsa che ho dentro che ho sempre dietro l'ho aperta ma quello con la pistola mi è venuto dietro non è che sia rimasto qua quando ha visto la pistola che cosa ha pensato? ho pensato che non faccio niente spero che non facciano niente un bottino che potrebbe aggirarsi intorno al migliaio di euro prima che facessero irruzione i due malviventi nel negozio era entrata una donna, una complice era nervosa ci ha detto Edda ha preso un pacchetto di sigarette due gratte vinci e poi è uscita è probabile che fosse una complice questa ragazza? certo, certo perché dopo questo signore che abita qua che ha le telecamere guardate ancora ieri sera ha detto che ha visto che una sembrava un ragazzo ha detto prima era sesa da questa macchina e è venuta dentro è venuta a vedere com'era sul posto i carabinieri che stanno ora indagando per identificare i malviventi Edda ci dice che andrà avanti ma i suoi occhi cambiano quando pensa a quello che poteva accadere Stamattina sono venuta un po' più tardi invece che alle 6 erano le 6.20 ho aspettato che venisse un po' di chiaro e dopo continuiamo come al solito Bisogna andare avanti lo stesso? Non so per quanto perché adesso ero qua la mia... Penso di chiudere? Non so, chiudere subito no però è una roba che ti fa un po'... Lascia il segno? Eh certo Enesima risse in via Piave ci spostiamo dunque a Mestra nella notte due cittadini stranieri si sono accoltellati un residente ha filmato la scena dalla finestra Via Piave continua a essere teatro di risse e accoltellamenti l'ultimo proprio questa notte poco dopo le 3 è avvenuto qui nella zona dei Giardinetti un residente ha filmato la scena dalla sua finestra protagonisti due cittadini stranieri poi entrambi denunciati uno nigeriano 28enne è stato ferito al braccio e alla mano e soccorso dal suo M118 portato all'ospedale all'Angelo dove è stato piantonato dalle forze di polizia e dimesso poco dopo un'aggressione senza gravi conseguenze in realtà ma che continua a preoccupare i residenti ancora una volta svegliati di soprassalto nella notte e con l'avvicinarsi della bella stagione sale il timore che si possa tornare ai gravi episodi della scorsa estate è un disastro non so non ho parole guarda proprio siamo presi male io la sera non esco mai perché non mi sento tranquilla sempre per droga sempre per quello anche per altre cose penso ma veramente non si può vivere così ma scherziamo ieri sera erano tre macchine di poliziotico a un parco invece più avanti sono un disastro sono 15-16 persone ma un po' di personaggi che sono di quelli bel grossi che hai paura anche di notte adesso che si dorme che le finestre e le porte sono chiuse invece quando è caldo d'estate non si dorme niente ragazzi perché c'è caos è caos è un grosso caos questo a una settimana dalla manifestazione con migliaia di cittadini che chiedono più sicurezza e con le successive dichiarazioni del sindaco Brugnaro che chiede invece pene più severe questo è l'ennesimo esempio che nonostante le dichiarazioni di facciata nonostante le grandi gli grandi sbandieramenti di attività appostamenti il controllo del territorio ancora deficita c'è un accoltellamento alle 4 di mattina tra un gruppo numeroso di persone evidenzia che ci sono zone del nostro territorio che sono completamente scoperte questa mattina a Sossano in provincia di Vicenza si è svegliata con un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza in fiamme un'azienda tessile di oltre 2500 metri quadrati il fuoco distruttivo scatenato un'alta colonna di fumo nero denso che invade il paese e sale su in cielo sullo sfondo dei colli berici sono le 8 del mattino a Sossano quando un'azienda che commercia tessuti la Tex International in via Daniele Manin viene invasa dalle fiamme per fortuna in quel momento nel grande capannone di 2500 metri quadrati non c'è nessuno scatta l'allarme i vigili del fuoco accorrono dall'Onigo da Vicenza da Este e da Verona con 24 uomini 3 autopompe 2 autobotti l'autoscala e il carro aria nell'epoca dei social gli automobilisti di passaggio fanno dei video e li postano ma l'incendio è un dramma per questa azienda questa è un'azienda del territorio è una buona azienda che tratta tessuti sia al dettaglio che all'ingrosso tessuti e scampoli di arredamento e il contenuto è andato rimediabilmente compromesso senz'altro per la struttura esterna sarà da verificare nei prossimi tempi appunto una consistenza strutturale per quanto riguarda la compromissione dell'edificio l'incendio l'incendio viene domato dai pompieri che evitano il coinvolgimento del vicino supermercato il capannone internamente è totalmente distrutto toccherà ai tecnici dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di vicenza e dei carabinieri stabilire le cause del rogo intanto l'ARPAV effettua i rilevamenti sull'aria non c'è stata necessità di emettere alcuna ordinanza per la qualità dell'aria la corona di fumo tra l'altro si è levata in verticale quindi non è stata spostata dal vento verso i centri abitati e ci siamo consultati con l'ARPAV e con l'USL per cui è stato ritenuto di non applicare nessuna ordinanza le operazioni di spegnimento sono terminate nel pomeriggio è stata fatta una verifica ulteriore del contenuto interno con delle apparecchiature fatte venire appositamente adesso nei prossimi giorni si proseguirà con i campionamenti sia dell'aria che dell'acqua usata proprio per lo spegnimento ma sono fiducioso che sia tutto circoscritto al luogo del disastro questa mattina nel cortile del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano una veglia toccante per ricordare Tommaso Fabris il 17enne ucciso dalla meningite il canestro la grande passione di Tommaso e tutti loro i compagni le compagne insegnanti personale scolastico dirigente del liceo scientifico che frequentava il 17enne strappato alla vita da una meningite fulminante stretti in un corale a braccio per salutare l'allievo modello l'amico il fratello e dirgli ancora una volta grazie Tommy ti vogliamo bene un cortile composto un cortile colmo di lacrime di silenzio perché nessuno riesce a capire spiegare accettare che un ragazzo come Tommaso possa non esserci più muore giovane chi è caro agli dei dicevano gli antichi greci per cercare di dare un senso a un dolore troppo grande per essere compreso dalla ragione proprio la frase che è stata ripresa dai rappresentanti di istituto per darsi forza a vicenda darsi un perché a una realtà che non ha spiegazioni razionali nelle scorse ore l'autopsia sul corpo del 17enne è inserata alla firma del magistrato del nulla osta per la sepoltura e lunedì pomeriggio al pala 2 di Bassano il funerale sono attese tantissime persone oltre ai familiari amici e compagni di scuola di pallacanestro gli storici della compagnia di tezze sul Brenta il paese dove viveva con i genitori e il fratello intanto studenti e studentesse sono più che mai legati più che mai vicini e in cielo verso il sole vengono lanciati palloncini azzurri e bianchi per dire a Tommy per sempre voltiamo pagina covid con la regione che ha aggiornato il piano di sanità pubblica il contagio cala ma l'attenzione resta alta soprattutto guardando alle dinamiche cinesi e poi c'è il fronte giudiziario con l'inchiesta sulla zona rossa in Lombardia attenzione non si perda di vista l'approccio scientifico dice il professor Guerriero sono conti che si possono fare bisogna vedere la bontà del conteggio d'altro canto si può anche dire che avremmo potuto fare molte cose in maniera diversa e che questo probabilmente avrebbe potuto risparmiare tante vite e tante sofferenze e tanti anche problemi economici sta di fatto che noi siamo stati travolti da questo virus credo che tutti si siano impegnati al massimo per fare il meglio non entra nel merito della vicenda ma auspica non si abbandoni il metodo scientifico l'epidemiologo veronese Massimo Guerriero guardando l'inchiesta della procura di Bergamo sui presunti ritardi dell'istituzione di una zona rossa a Nembro e Alzano epicentro del virus per cui è finito sotto inchiesta anche l'ex premier Conte tre anni fa la pandemia era nel pieno della sua forza letale oggi lo scenario e tutt'altro calano ricoveri e contagi ma soprattutto i decessi sotto la soglia dei 50 al giorno in tutto il paese è chiaro che chi non è vaccinato sarà continuamente esposto a questo virus che sottolineiamolo non sparirà avremo a che fare con il virus anche l'inverno prossimo evidentemente in Veneto in Veneto più di un ottantenne su due non ha la quarta dose eppure dice Guerriero la tensione va tenuta alta le curve dalla Cina dove l'immunizzazione è stata poco efficace parlano chiaro Cina di nuovo alla ribalta per un report dell'FBI americana che torna a suggerire l'ipotesi di un virus partito da un laboratorio ma anche qui la scienza invoca cautela Già prima Pechino era chiusissima figuriamoci se adesso si riesce ad avere qualche informazione aggiuntiva o per l'FBI riesco a ottenere informazioni aggiuntive per poter dare una notizia che sarebbe pesantissima ovviamente E questo nel giorno in cui la giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarina ha approvato un ulteriore aggiornamento del piano di sanità pubblica che consenta alle strutture sociosanitarie di rivedere le modalità di accesso aumentano anche i posti letto covid stabili questo significa liberare postazioni per i ricoveri ordinari L'Unione Europea ha rinviato il voto sulla direttiva con la quale da 2035 si vorrebbero mettere al bando le auto a diesel e benzina La notizia è arrivata a poche ore dal lancio a Belluno prima in Veneto dall'iniziativa della Lega di lanciare una raccolta firme in tutte le piazze il 17 e 18 marzo stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035 la presidenza svedese dell'Unione Europea ha deciso di rimandare la decisione in seno al comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli stati membri fissata per il prossimo 7 marzo il core per questo lacronimo del comitato che svolge un ruolo cardine nel processo decisionale dell'Unione tornerà sulla questione a tempo debito ha comunicato via social uno dei portavoce della presidenza mentre negli stessi minuti la Lega a Belluno in anteprima regionale lanciava la sua campagna contro la direttiva che imporrebbe stavolta il condizionale ed obbligo la messa al bando delle auto a motore convenzionale per il carroccio una scelta sbagliata e un azzardo preoccupante soprattutto sotto il profilo sociale l'auto elettrica oggi non è un prodotto ancora maturo non se la possono permettere tutti e in una realtà come il Veneto con antropizzazione molto diffusa dove l'auto è di fatto necessaria diventa un bel problema e poi il tema dell'indotto in Veneto moltissime aziende lavorano per i più noti marchi in Europa e nel mondo per la produzione di componentistica abolire l'auto convenzionale rappresenterebbe un problema economico senza scordare spiega Bottacin che l'auto elettrica non è a impatto zero per produrre quei materiali che poi servono per le batterie e per i motori da punto di vista ambientale è parecchio impattante che poi lo facciano i cinesi che non rispettano le norme ambientali mi preoccupa un pochettino perché poi l'aria non segue i confini amministrativi e quindi questo è un tema poi c'è l'altro tema che l'auto elettrica bisogna io attacco la spina ma bisogna capire come viene prodotta l'energia elettrica perché se produco l'energia elettrica bruciando carbone un rinvio della decisione sulla messa al bando di auto benzina e diesel a 2035 non equivale ad una cancellazione della norma per questo la Lega conferma la sua netta opposizione apre una raccolta firme ai gazebo e online il 17 e 18 marzo le prime apposte sul modulo quelle di Bottacin del segretario provinciale della Lega di Bernardina l'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e la gente dobbiamo essere capaci di tornare partito a livello popolare questa era la nostra forza insomma ha detto la Lega si lega al territorio si deve legare al territorio la Lega lo dice anche lo stesso nome deve essere legata al territorio lo abbiamo fatto per tanti tanti anni a Padova come in altre città d'Italia tornano a manifestare gli ambientalisti dei Friday for Future dalla stazione lungo le strade della città in 600 hanno preso parte alla manifestazione contro la crisi climatica che ha riportato in piazza a Padova come in altre 50 città d'Italia gli attivisti del movimento Friday for Future per chiedere giustizia climatica e sociale oggi siamo in piazza come studenti universitari per ribadire che anche noi ci battiamo per la giustizia climatica l'università di Padova è un'università che si freggia di essere sostenibile quando in realtà ha inato degli accordi con Intesa San Paolo con Eni che sono delle aziende che devastano tutti i nostri territori quindi oggi siamo qui per portare queste istanze la lotta ai cambiamenti climatici parte dai temi di attualità cittadina tra i partecipanti alla manifestazione tanti rappresentanti dei comitati come quello contro la quarta linea dell'inceneritore e contro l'ampliamento di un magazzino alimentare in zona industriale alto anche il tema della mancanza di alloggi per gli studenti noi vogliamo appunto riutilizzare gli edifici sfitti gli edifici abbandonati ci sono appunto oltre 70 edifici che sono del tutto abbandonati e che un IPD potrebbe riutilizzare invece continua a cementificare e a proporre dare i contributi alle residenze di lusso con le tute bianche e gli strissioni colorati i manifestanti sono entrati anche in un cantiere sotto il cavalcavia Sarpi d'Almazia accendendo un fumogeno nella notte anche un blitz anonimo in una ventina di scuole della città questa mattina infatti gli studenti hanno trovato gli ingressi chiusi con i lucchetti Tappa mestrina per Marco Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ad un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul fine vita Dobbiamo raccogliere 7.000 firme da depositare poi in consiglio regionale e portare quindi poi alla discussione del consiglio regionale questa proposta di legge A un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito Marco Cappato ha fatto Tappa anche a Mestre iniziando con un controllo della polizia locale che prima ha interrotto il dibattito non violento successivamente ha identificato gli organizzatori poi tutto è proseguito normalmente il Veneto è la prima regione d'Italia a essere partita con questa raccolta firme In Italia è già possibile a certe condizioni ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria quello che manca sono procedure certe a livello regionale tempi e scadenze certe perché un malato non debba essere costretto ad aspettare magari anni una risposta del sistema sanitario ecco perché è importante che le regioni che i sistemi sanitari regionali si dotino di queste regole di queste procedure la nostra come associazione Luca Coscioni è una legge di iniziativa popolare per chiedere che in 20 giorni il sistema sanitario verifichi se effettivamente il paziente è in condizioni di lucidità di irreversibilità e di insopportabilità della sofferenza e quindi possa ottenere l'aiuto alla morte volontaria abbiamo ricevuto devo dire un grande segnale di attenzione di disponibilità dal presidente Zaia in particolare sul caso di Stefano Geller del nostro attivista iscritto all'associazione Luca Coscioni Stefano Geller in poche settimane sono già molte le firme raccolte si può firmare in tutte le province del Veneto ci sono c'è il sito liberisubito.it dove c'è una mappa interattiva costantemente aggiornata con tutte le indicazioni sui punti di raccolta i cittadini sono assolutamente favorevoli e coinvolti su queste tematiche e firmano in maniera convinta non è una firma tanto per dare ma è una firma con consapevolezza con conoscenza del tema è una libertà che come sul divorzio come sull'aborto poi ciascuno valuta se accedere se scegliere di attuare questo diritto negare però la possibilità di scelta credo che sia un modo di non rispettare la vita l'umanità delle persone cambiamo argomento record di ascolti ieri sera su tele nord-est per la fase di andata del classico tra Real Madrid e Barcellona valida per la semifinale di Coppa del Rey il Barcellona con un gol di Eder Militao è spugnato il Santiago Bernabeu nel derby più atteso della Liga Spagnola oltre 120.000 telespettatori hanno visto ieri sera su tele nord-est la partita di andata del classico grande successo di ascolti per il match di Coppa del Rey trasmesso in chiaro dal gruppo media nord-est i blancos di Carlo Ancelotti dati per favoriti in questo appuntamento del classico dovranno puntare tutto nella sfida di ritorno prevista il 5 aprile al Camp Nou e che verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sempre su tele nord-est il canale da sempre votato al grande sport e al calcio niente è ancora deciso le partite di ritorno delle semifinali della Coppa del Rey inizzeranno il 4 aprile allo stadio Samames di Bilbao quando ci sarà la sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao vinta l'andata dalla squadra di Pamplona le due vincenti si sfideranno poi nell'attesissima finale della Coppa del Rey il prestigioso trofeo spagnolo verrà segnato il 6 maggio anche questo match verrà trasmesso in diretta in chiaro su tele nord-est è tutto vi lascio le previsioni del tempo grazie per essere stati con noi buona serata cooperativa agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a Volpago del Montello Pieve del Grappa Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago ben trovati al meteo anticiclone in rimonta ci attende un weekend con il bel tempo e un clima tutto sommatomite vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 marzo sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento cielo da poco nuvoloso a sereno occasionalmente durante le ore più fredde della giornata non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità specie sulla bassa pianura temperature in aumento minime comprese tra 1 e 3 gradi massime invece oscillanti tra i 12 e i 15 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove anche qui sarà soleggiato e il cielo si presenterà sereno o velato sulla costa venti di Brezza temperature minime tra 1 e 4 gradi massime tra i 12 e i 14 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove si prevede un cielo soleggiato solo con qualche velatura innocua temperature minime intorno ai 2 gradi massime sui 16 gradi all'incirca dal meteo di Antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a Volpago del Montello Pieve del Grappa Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago a Dolo a Dolo Grazie a tutti.